scopri il primo greenway by spirito tarsogno trail una corsa nel cuore della natura sabato 18 maggio 2024 alle 17 a tarsogno parma ti aspetta un'avventura unica lungo strade panoramiche e paesaggi mozzafiato con un percorso di 9,8 chilometri potrai immergerti completamente nella bellezza naturale mentre metti alla prova le tue capacità di corsa non solo potrai vincere fantastici premi ma al termine della gara potrai goderti un ristoro finale e partecipare al pasta party le iscrizioni sono aperte sul posto fino a 15 minuti prima del via non perdere questa straordinaria opportunità grazie a tutti